Benvenuti a tutti, la conferenza Stata naturalmente di oggi vuole esistenziare due cose principali. Si parla di un'iniziativa, quindi un festival che si terrà sabato mattina presso la Pinacotica San Domenico, messa a disposizione la fondazione rappresentata da Diciorgio Rosati, che ringrazio perché sono sempre disponibili ogni volta che viene richiesto uno spazio, l'importante della città e nello stesso tempo che metta in evidenza invece chi la organizza, perché l'associazione appunto in mar, che mi presenta e poi magari mi presenterò anche in vari rappresentanti, è un'associazione che si è costituita, sono molto contenta di raccontarla, perché per questo si è costituita lo stesso anno, quindi nel 2021, mettendo insieme più associazioni del territorio, l'associazione di culturale, dei ridossi, sono Berluti, c'è appunto un nuovo vero, programma marina, ma ci sono anche altri referenti all'interno dei ricercatori che oggi sono anche presso i lavoratori del panorama di Sender. È chiaro che il valore di questo progetto, se chiamo un progetto perché un'associazione poi porta sempre avanti un progetto che è un progetto di città, era fondamentale perché ha iniziato a lavorare non solo su quello che è un po' la sensibilizzazione e la valorizzazione del nostro mare, ma anche su tutta quella che la parte è proprio dell'informazione, della conoscenza. Lo ha fatto sia le scuole, lo facciamo attraverso le università.